Caricamento sessione Caricamento sessione Un nuovo giocatore si è unito alla sessione L'obiettivo è trovare e uccidere le previ assegnate È l'ira di farti uccidere da altri giocatori Audi fatti in casa 3 al verso con 12 punti Primo sangue Un nuovo giocatore Un nuovo giocatore si è unito alla sessione Un nuovo giocatore si è unito alla sessione Morteo in libero Audi fatti in casa Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Un nuovo giocatore si è unito. Un nuovo giocatore. Un nuovo giocatore si è unito. 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 Un nuovo giocatore. Un nuovo giocatore si è unito. 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 Un minuto a perdere. Morte onorevole. Contratto perso. Contratto perso. 30 secondi al tempo. Uccisione contesa. Hai ottenuto il primo posto. Hai ottenuto il primo posto. Hai ottenuto il primo posto.